Ciao, sono la dottoressa Elenia Monopoli ed oggi sono qui per parlarti nuovamente delle macchie solari. Perché? Perché siamo in piena estate e le macchie solari fondamentalmente sono indotte dalla radiazione che colpisce la nostra pelle. Non a caso le macchie solari si manifestano sulle zone che sono sempre esposte al sole e quindi parliamo del viso, delle mani e anche del décolleté e in molti casi anche del cuoio capelluto. Cosa sono queste macchie? Le macchie si formano perché la radiazione ultravioletta stimola nella pelle, nel nostro derma, la produzione di una sostanza che si chiama melanina, che è scura, che è colorata, che è un pigmento che però nel caso in cui ci esponiamo in maniera esagerata e altrettanto senza protezione solare, questa produzione diventa alterata, quindi si formano delle macchie, cioè questa melanina si va ad addensare in alcune zone, ripeto, quelle più esposte al sole. Per prevenire le macchie bisogna assolutamente proteggersi in una maniera adeguata e vorrei ricordarti di proteggerti anche durante le giornate nuvolose, perché in ogni caso le radiazioni, specie la radiazione UVA, filtra e ci colpisci anche attraversando gli strati di nuvole. Una cosa importante è che se hai il cuoio capelluto diradato, comunque hai una calvizia che sia precoce oppure no, ricorda sempre di utilizzare uno spray, una protezione solare anche sulla cute, perché le macchie solare che compaiono sulla testa, poiché prendono il sole in maniera sempre perpendicolare, possono destare anche poi problemi più importanti. Grazie per l'ascolto, ricorda sempre che alla farmacia di Nardo il tuo benessere ci sta a cuore.